ragazzi per attivare l'audio bisogna andare a schiacciare questi due pulsanti insieme quello della playstation per schiacciare la home e quello per share questo ragazzi vi farà connettere al bluetooth al telefono andiamo a schiacciare e voi poi dovete andare a mettere a collegarlo quindi a metterlo sul telefono con il bluetooth attivandolo ragazzi per andare ad attivare il nostro bluetooth raga ovviamente dopo aver fatto quell'operazione che vi ho messo prima dei video come farla andiamo sulle impostazioni andiamo sul bluetooth e andiamo attivarlo dopodiché andiamo a collegare il wireless a me me lo collegherà direttamente però comunque non ci saranno problemi non vi chiederà niente per collegarlo andiamo subito a vedere call of duty ok quando state per entrare a call of duty vi consiglio o di accenderlo prima o di mettere quando state per accendere dovete muovere i analogici o qualsiasi pulsante schiacciarlo che dopo un po si risconnette da solo il controllo è una cosa che fa la fanno i controlli della playstation si sconnettono abbastanza velocemente comunque è meglio se accendete prima l'applicazione andandoci a schiacciare mettendola solo home e poi andate a connettere controllo comunque è sempre uguale andiamo ad accedere qui ospite ok ok grazie dopo il caricamento che sarà lunghissimo cioè lunghissimo un po' di secondi quindi dovete sempre andare a schiacciare o a trascinare l'analogico dopo il caricamento andate a schiacciare option e opzioni ragazzi Grazie. Ragazzi, dobbiamo andare a schiacciare la rottellina delle impostazioni qui sopra e andare su controlle. Qui ci saranno tutti i comandi, qui ci saranno le impostazioni, qui dovete andare a connettere controlle, potete modificare la sensibilità quanto volete, la metto come era prima. E niente, qui potete modificare tutte le sensibilità, i comandi sono qui, potete vederli, e poi dopodiché adesso vi faccio vedere una partita di molti giocatori. Ok, andiamo a schiacciare, iniziamo la partita, ragazzi vedete qui c'è il rotondo, quindi è nel controlle, e raga adesso possiamo giocare. Credo che sia sempre collegato. Come vedete funziona, io sono in vendo e analogici. Sono un po' le opzioni di decoll. Grazie. Grazie. Grazie.